saluta guarda dietro sei lampeggia di rosso dietro sei lampeggia di rosso certo, però siamo pronti vai motta davanti fino al gradone poi dopo magari passo davanti va bene va bene va bene va bene ti perdo! vai a palla! poi ti fai delle parapeligradone poi ti fai delle parapeligradone vai a palla alla fine non ti ho filmato il caso no va bene è va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti